Il gruppo Estra è uno dei principali operatori nazionali nel settore dell'energia, con una presenza di particolare rilievo nel centro Italia. Con più di 725.000 clienti, gas e luce, abbiamo realizzato nel 2017 oltre un miliardo di euro di ricavi totali consolidati. La crescita di Estra è stata costante e coerente con una precisa visione industriale. Guardiamo al mercato ponendo al centro i nostri clienti, elevando la qualità dei servizi offerti. Diamo energia a famiglie e imprese, offrendo servizi di prossimità. Tra tutti emergono i nostri 80 sportelle in 8 regioni italiane, una presenza diffusa di ascolto e contatto diretto. Siamo un'azienda moderna, capace di usare strumenti innovativi, ma al contempo manteniamo un forte legame con i territori in cui operiamo. Da sempre lo sguardo di Estra è rivolto al futuro. Grazie a tutti.